Strada provinciale 53 alle porte di Pianella, chiusa da sei mesi a causa di una frana. Consigliere Pettinari con inevitabili disagi per i residenti di Pianella che sono costretti ad utilizzare una strada comunale. Sì, è un'arteria principale che collega Loreto a Pianella, un'arteria frequentata da tantissimi cittadini, da imprenditori, aziende agricole e un'economia cittadina possiamo dire in ginocchio perché da oltre sei mesi, a seguito di una frana, questa strada interdetta al traffico automobilistico. I cittadini sono costretti a percorrere una viabilità alternativa in una strada comunale fortemente, gravemente ammalorata, fatiscente, che metta in serio pericolo anche la vita dei cittadini perché non è praticabile. Ecco, noi abbiamo chiesto con questa interrogazione al Presidente D'Alfonso di stanziare risorse in bilancio, fondi da destinarsi alla provincia di Pescara per la messa in sicurezza immediata di questa strada. E nell'emore di questa operazione chiediamo l'installazione di un sistema semaforico che consente la viabilità alternata su questo tratto di strada provinciale perché la frana interessa solo una parte della carreggiata. Mi si consenta di dire che la previsione stanziare 13 milioni di euro per realizzare un ponte a Pescara, che seppur bello ma non è necessario, e poi lasciare in abbandono le aree interne è una vergogna. Abbiamo una serie di aree interne della provincia di Pescara completamente lasciate in abbandono. Questo va a gravare fortemente sull'economia locale, quindi il Presidente D'Alfonso deve capire che ci sono priorità. Queste sono le priorità per la nostra gente. Speriamo che ci ascolti e metta subito mano alla risoluzione di questo problema.